Buongiorno a tutti ragazzi, ciao e buon venerdì mattina. Oggi di nuovo cosa mangia di un giorno? Oggi ho fatto il tè caldo, questo tè che ho preso a Lidl, percato che era l'ultimo gustino e l'ho finito, e fette biscottate con robiola e marmellata di frutti di bosco. Al tè ho aggiunto un penne di miele, quindi adesso buona colazione a tutti. Allora adesso come sempre andrò a farmi il mio caffeino di mattina, sveglio, che mi sveglia questo, il casar. Eccoci qua. Eccoci qua, questo è il caffè dopo la colazione, che ci sta sempre la mattina, ovviamente perché non sono al lavoro, se era al lavoro, intorno alle 6 e mezzo faccio colazione e prendo subito il caffè. Invece ora sono le 9, ho già fatto colazione da un po', ho poi preparato una ricettina per voi, e quindi questo è il mio caffeino. Ci vediamo a pranzo. Adesso come spuntino di metà mattina, io Asia, ci mangiamo un bel yogurt di soia al mirtillo della Mucchi. E ho provato quello di soia sempre della Mucchi, ai cereali e anche quello era buono. Adesso ce ne mangiamo invece questo con mirtillo. Adesso dopo lo yogurt mi ci vuole un altro caffeino, però questa volta decaffeinato, quindi me lo faccio con un arpeggio decaffeinato, che è molto buono. Perché poi magari andò a prenderlo uno oggi pomeriggio. Eccoci qua, il nostro caffeino è pronto. Ovviamente io non metto zucchero, né nel caffè normale e nemmeno in quello decaffeinato. Quindi lo berevo proprio amaro, così come viene. Ormai sono anni e mi piace più amaro, quindi lo zucchero non lo metto. Adesso ci vediamo dopo, a pranzo, che ho preparato tante cosine un po' sfiziose. Scusate i miei cani, sono sempre in mezzo. Ciao! Allora, oggi a pranzo ho deciso di fare fiori di zucca al forno, gli involtini di zucchine con prosciutto e formaggio sempre al forno e la torta di patate al forno. Quindi è quello che noi mangeremo oggi a pranzo. E dopo una bella pesca o un sorbetto di pesca. Vediamo un po' cosa mi viene in mente. Da vi oggi mangerò questo yogurt al pistacchio con le mandorle croccante, che è molto buono, l'ho ripreso tante volte all'Eurospin. E niente, poi mi farò un caffeino oppure un orzo. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla cena. Questa è la nostra cena, ho cotto i pisellini, quelli del mio babbo della terra, con la salsiccia a luganega che l'ho fatta a pezzettini. E mangeremo questo e un pezzo di pane. E poi un po' di frutta. Quindi spero che questo video di oggi vi sia piaciuto. Cosa mangio in un giorno o tre. Vi saluto, mettete un bel pollicione in su, scrivetemi i vostri commenti in fondo. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci saranno un sacco di nuovi video e altre ricette. Vi mando un bacione, vi auguro un buon venerdì, un fine settimana a tutti. Ciao!